Domani a Cava dei Tirreni si giocherà Cavese Rende, partita valevole per la tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie C e si preannuncerà una gara non semplice per i biancoblu che riceveranno una delle prime in classifica. Giacomo Modica, l'allenatore della Cavese, conosce il livello della propria squadra quindi spera soprattutto nelle motivazioni e nella volontà da parte dei metelliani di mettersi in mostra e di creare la sorpresa come stavano riuscendo a fare contro la Juve Stabia prima che arrivasse il gol del definitivo successo gialloblu. Anche Massimiliano Santoriello, l'amministratore della Cavese, pur ritenendo che la squadra con il suo undicesimo posto si trovi in linea con le aspettative, spera di vedere più continuità e anche capacità di miglioramento. Queste le sue parole rilasciate ieri sera nel corso della nostra trasmissione Gonfia la Rete condotta da Nunzio Siani. Siamo perfettamente in linea con l'obiettivo, come ha ribadito anche il mister Modica, il direttore, quindi noi questo campionato ci dobbiamo salvare e per le prime dieci gare che abbiamo fatto siamo sempre stati in linea con l'obiettivo. E questo va bene, va benissimo, però bisogna anche leggere le situazioni, dobbiamo anche capire la qualità del campionato e già le partite che abbiamo affrontato. Fino ad oggi nessuno ci ha messo sotto, abbiamo fatto soprattutto in casa con delle ottime squadre come la Juve Stabia, il Trapani, abbiamo fatto bene, quindi è il momento di prendere consapevolezza, non è che si posta tutto l'anno a dire ci dobbiamo salvare, ormai questo lo sappiamo, è inutile parlarne più, però dobbiamo essere consapevoli e nello stesso momento coraggiosi. Perché il campionato diciamo sono dieci partiti, non sono tantissime, ma neanche sono poche, l'abbiamo letto. Quindi proseguiamo tranquillamente verso l'obiettivo della salvezza, però prendiamo consapevolezza che ad oggi il campo ha detto che noi non siamo secondi a nessuno. Che c'è una forza, che c'è una forza. E dobbiamo adesso osare di più, essere più coraggiosi. E per osare di più, quindi io parlo di consapevolezza e coraggio, dobbiamo tutti fare qualcosa in più, curare ancora di più i minimi particolari. Io ho detto ognuno faccia il suo, io lo faccio per me, lo fa il direttore, lo fa l'allenatore, lo staff dei, ma soprattutto i calciatori. Adesso devono essere consapevoli che non è come dicono tutti. Il fatto arrivano dall'eccellenza, arrivano dalla D, sono scarsi. Hanno dimostrato in campo, in dieci partite, di non essere inferiore a nessuno. Quindi adesso deve iniziare una sfida con loro stessi per crearsi un futuro. Siamo in linea con gli obiettivi, siamo sempre stati salvi e siamo felici così. Il campionato ha detto che possiamo fare molto di più e lo dobbiamo fare. La probabile formazione della Cavese per domani sera. Vono, Lia e Licata, Migliorini, Manetta e Bruno, Rosafio, Favasuli, Sciamanna, Fella e Agate. Potrebbe esserci solo panchina per Bettini, in gola Pagani sabato scorso. Rimane fuori Nunziante e salvo sorpresa resta indisponibile anche Tumbarello per motivi fisici. Cavese rende, partita che avrà inizio alle ore 20 e 30, sarà arbitrata dai signori Pari de De Angeli di Abbiategrasso come arbitro centrale e dai signori Michele dell'Università di Aprilia e Aristide Rabotti di Roma II, come collaboratori di Linea. Però prima dell'inizio della partita, intorno alle ore 19, gli Ultras si raduneranno al centro di Cava, presso il Palazzo Coppola, la cui Aquila 94 anni fa diede l'ispirazione per la creazione del simbolo della Cavese nel lontano 1924. Da lì si dirigeranno verso lo stadio Lamberti per assistere alla partita. Inoltre ci sarà un'altra iniziativa per ricordare proprio Simonetta Lamberti, scomparsa 36 anni fa per mano della criminalità organizzata. E le due squadre di Cavese e Rende osserveranno il cerimoniale previsto dalla Lega Pro per contrastare la violenza sulle donne. Nel frattempo la Lega ha comunicato delle variazioni rispetto agli orari di alcune partite della Cavese previste per il mese di dicembre. Catanzaro-Cavese del 2 dicembre avrà inizio alle 14.30, così come Cavese-Potenza del giorno 9 e come Catania-Cavese del giorno 23, tutti anticipi concordati per esigenze organizzative.